E ben altri ragazzi siamo qui in un nuovo video, intanto partiamo subito con le guardie che mi vogliono massacrare Come sempre io faccio così Uno Dico me ti chiami Io mi chiamo Matteo E quello che mi sta registrando si chiama Simone, saluta Ciao Ancora, buona E adesso approventante che lui Ecco, fa Qua c'è le missioni secondarie perché le ho già finite tutte Però proveremo a finire Proveremo a finire Kingston Tutte le altre città Abbiamo già finito una città L'Havana però siccome mi ha cancellato l'account Nell'Xbox Devo rifare tutto da capo Intanto c'è il cecchino Come cavolo l'ho schivato, non me lo chiedete No, ti ha colpito, mi so Perché hai perso la vita Ciao Ma what Ma Ok Oh fuck Bello Ma ciao Ma no, ma dai Ti ho schivato, no No, ti faccio così Uno, due Dai, su, su Comunque se volete altri video di Assassin's Creed The 4 Black Flag Basta chiedere che tanto io e Simone ci siamo sempre, vero Simo? Sì Perché oggi visto che Simone rimane giura a me a dormire E stavo dicendo che rimane giura da me a dormire E Cioè Vediamo un po' Continuiamo un po' la dimensione secondaria Intanto ci diamo questa guardia C'è una roba lì dell'animus Sì, ero vero Prendila Sto cercando di prenderla Ah, però è troppo in alto Ok Via Prima Andiamo a uccidere un po' di guardia Dopo andiamo a prendere tutto Andiamo a uccidere un po' di guardia E far divertirci perché abbiamo un po' l'acceso Sì E ci è venuto in mente di fare il primo video qua nel canale Che noi ce l'avevamo già uno però ce l'hanno cancellato Parco cane Noi siamo family friendly Ciao Mateo Però questo gioco non è tanto family friendly quindi Ve lo consiglio molto come gioco perché è anche bellissimo, vero Simo? Sì, quello sì Come sempre Per divertimento Ecco Si fa così Matteo è un pro In Assassin credo io non faccio veramente schifo Non ci gioco mai perché è il suo gioco Lui è anche bravo Lascia anche a pugni ma tanto le guardie fanno schifo però A pugni Contro quattro è tanto Però Stanno arrivando sempre Colpo, colpo, colpo Guarda quanto è bravo Ancora? Visto? Ancora Non gli frego la spada, eh, raga Facci tutto a pugni Se riesci a Ammazzarli senza Senza le spade Sei un pro player Ok, Teo? No, le faccio anche togliere dalle donne Con una mano, eh Sì Sì, l'altra mano Sì È vero, proprio con una mano Mmm, siete scarsi, oh Tanto la guardia sono bagato Però va bene Si è bagato, eh Con una mano, regà Cioè Si vede, Teo Non si vedeva Niente Madonna Che bocca Adesso vai a prendere gli animus Tutto Sì Ok Faccio una sfida Ogni volta che Prendi la canzone Dov'è? Eccola Però si muove Vieni qua Presa Visto? Si muoveva, no? Ciacchino, regà Attenzione, Assassin's Creed Parkour Sempre Sempre lui L'altro non sente Attenzione Sempre lui Prendi la canzone Che deve arrivare a 5 Ma no, non era una canzone Vabbè andiamo a prendere i bauli Per i soldi Per i soldi Una volta Una volta io li avevo ammazzati Una volta? Si Però mi faceva dispiacere ammazzarli Regà La prossima guardia che incontro A pugni Uno impiccato e uno a pugni No, tutto a pugni Va bene Sfira? Si, si Questo è uno Ma questo è in calcio Non ha pugni Vabbè Questa è a pugni Attenzione Assassin's Creed Si vuole far vedere Comunque se non conoscete il nome di Assassin's Creed Si chiama Edward James Canary È nato il 16 luglio A 1672 72 72 Non è che lo sappiamo tanto Però all'inizio del gioco Ve lo dice Se ce l'avete Scrivete sotto nei commenti Se abbiamo fatto giusto No, Teo Aia Si No, ma ci sono quelli che mi aiutano No, non vale Vabbè Ma non dovevi fare a pugni È quello che sto facendo Ma quanto urlano No, Teo Via Regà Facciamo una cosa Sfira Adesso vado alla Havana Nel castello No, fai un fortino No, no Sì Uccido tutte le guardie nel castello a pugni Ma qua l'hai finita la Havana No Non la finisci Mi ha cancellato Mi ha cancellato il Ah, è vero, scusa Non mi ricordavo Arriviamo fino a 12-26 È il massimo Tanto che aspettiamo Ok Dopo tagliamo Vabbè, mi sei un assassino Dopo tagliamo Sì Mi sono un assassino Completate Tutto Però È piccola un po' È piccola la Havana Però Ci sta Non lo si Però Allora, regà Adesso Purtroppo Devo spegnere Questi 9-127 reali Per comprare Le munizioni Purtroppo Dopo Vendere Facciamo Vediamo cosa mi posso Te Grazie a tutti.